Come si tratta di un'interoperabilità? Oltre a questo parleremo e vedremo anche l'interazione fra il BIM propriamente detto e l'architettura generativa algoritmica, quindi sistemi come Grassoper, dalla cui unione nascono proprio nuovi paradigmi concettuali che sono un po' forse la novità vera e propria in questo momento. Dopodiché avremo anche una sintesi sulle nuove funzionalità di Archicad, Archicad 20 di recente uscita, che è totalmente incentrata sul concetto di informazione, l'AI nell'acronimo di BIM. L'informatica fondamentalmente è comunicazione, quindi permette di comunicare con più soggetti contemporaneamente molte più informazioni rispetto al passato. Se prima un progetto conteneva un insieme limitato di dati e informazione, oggi il livello di complessità interno al progetto insito già nelle prime fasi del suo sviluppo è cresciuto esponenzialmente. Grazie.